San Benedetto Eco Green presenta le inchieste di Bromotti. Domanda 5. Perché San Benedetto ha creato un network di acque minerali? Semplice, per ridurre le distanze tra le fonti e luoghi di utilizzo. Pensate, è stato calcolato che, grazie al network San Benedetto, sono stati così evitate oltre 20.000 km ai nostri camion e questo si traduce in maggior sostenibilità dei nostri prodotti. Naturalmente il tutto con la garanzia San Benedetto. San Benedetto Eco Green, insieme per l'ambiente. Viva la natura! Abbasso la CO2!